E' stato il centro di aggregazione del quartiere. Nelle sere d'estate ci si ritrovava al fresco delle piante, seduti sui moretti o sulle panchine. Il rumore dell'acqua della fontana poi rendeva l'atmosfera piacevole e conviviale. Le attività che si affacciavano sulla piazzetta rendevano le serate animate. I bambini giocavano in sicurezza sotto gli occhi attenti delle madri e gli anziani invece dialogavano con loro e tra di loro. A vederla ora, piazza Capuana, il fulcro del quartiere di Fano II, risulta difficile immaginarsi queste atmosfere descritteci proprio da coloro che per primi, una ventina di anni fa, iniziarono a popolare il quartiere. Ora l'incuria e il degrado regnano sovrani, erbacce, selciato rotto, fanno da sfondo a chi passa frettolosamente per di qua, quasi a voler passar via oltre il più presto possibile. Anche il bar poi ha ceduto le armi e chiuso i battenti. La fontana è ridotta male, oltre a perdere pezzi di mattonelle, è un pericoloso passatempo per i bambini che si possono finire dentro cadendo e facendosi male, essendo le pareti molto scivolose e pendenti. E dell'acqua non c'è traccia, ma dell'erba infestante invece ce n'è in abbondanza. Eppure, ci dice un signore in bicicletta, non ci vorrebbe molto, piange il cuore a vederla ridotta così. Per altri questa fotografia è una vera pugnalata e un vero schiaffo al decoro urbano, per questo posto dimenticato da chi invece dovrebbe prendersene cura. Io ho provato molte volte a chiamare, ma nessuno si è fatto mai vedere. E così da tanto? Da molto, e bambini è anche pericoloso, tra virgolette. Per voi che ci abitate, insomma, vorreste? O sistemarla, oppure toglierla del tutto, che ne so, riempirla di terra, mettere dei fioi, ma poi non viene curata, quindi... Anche un po' tutta la piazza. Poi la piazza è proprio uno schifo. L'avevano risistemata una volta, ma poi l'hanno lasciata di nuovo abbandonata. Che ne pensa della piazza, un po' abbandonata a se stessa? Sarebbe opportuno metterci i lampioni a led come i passeggi, la fontana, trattarla un pochino meglio, educare un pochino meglio questi ragazzi che sono qui, raccomandarli di tenere pulito. Poi ci sarebbero quei giochi di là. Questi qui sono fatti adesso. Quelli di nell'altro spazio? Sono completamente abbandonati. La piazzetta ha visto tempi migliori? Molto, molto migliori. C'è i bambini che giocavano tutti lì nella piscina, si divertivano, adesso è tutto rotto. Oltre quello anche il parco, perché il parco non è male, però ci avrebbe qualche parchina in più per le donne che si lamentano sempre. Un po' più di decoro. Un po' più di decoro andrebbe bene qui nella piazzetta, specialmente davanti alla chiesa. Però, vediamo.